Entro due anni i lavori dell'asse centrale saranno terminati. Martedì prossimo, con la pubblicazione dell'undicesimo elenco, potranno partire altri 100 cantieri in centro. E con questo passo, secondo il primo cittadino Massimo Cialente, la ricostruzione privata avrà un grande impulso. Peraltro sono già attivi i contatti con l'Università dell'Aquila per affrontare il discorso pavimentazione del centro. Se partiamo adesso, più 30 mesi, siamo a metà del 2015, giugno, luglio, più 30 mesi, arriviamo a Natale 2017. Quindi, tranne qualche cialtroneria di qualche impresa a questo punto, i tempi, 30 mesi, ci sono per riavere l'asse centrale completamente rifatto, il centro storico. Ma soprattutto per quell'epoca si hanno finito anche i sottoservizi. Sottoservizi finiscono e nel frattempo ho chiesto l'incontro adesso, la superintendenza Comune dell'Aquila, l'Università, il professor Colagrande, che ha la cattedra di pavimentazioni stradali, per avviare la progettazione di una delle cose più importanti dell'arredo urbano, che sarà la pavimentazione del centro storico. I nuovi soldi assegnati sono 827 milioni di euro dal Cipe, poi ci sono, dice il Sindaco, altri 270 milioni, il problema grande, resta quello del personale per il quale il Sindaco sta spingendo molto col Governo. L'obiettivo di Cialente è far inserire in qualche decreto il discorso dei 55 precari del Comune. Allora, noi abbiamo presentato un emendamento in cui, diciamo, non ci sono costi aggiuntivi, perché avendo sospeso il casse, detto basta, ci sono avanzati dei milioni di euro. A questo punto noi diciamo, scusate, non bloccateci i lavori, fateci lavorare ancora questi precari che sono nevralgici per la ricostruzione. Non si riesce a vedere dove infilare questo emendamento, che non comporta impegni di spesa, perché sono soldi che ci stanno, che dovrebbero tornare a Roma, ritornare, eccetera, eccetera. Io spero che questa cosa, se non in questo decreto, venga fatta, altrimenti arriviamo all'assurdo che abbiamo i soldi e il Comune risulta bloccato perché non riesce a fare contemporaneamente due cose.